PEGI 18 Dicono che questi tunnel abbiano storie da raccontare Alcune dovrebbero rimanere sconosciute ma all'oscurità mi stava chiamando e tutto ciò che pensavo di sapere si trasformò in dubbio Di qui non passa mai nessuno né persone né bestie non ci sono neanche i topi C'è chi dice che sia la voce delle gallerie altri pensano che sia una forma di suggestione Fermati e guarda davanti a te Conosco questa galleria e lei conosce me Se vogliamo sopravvivere dobbiamo eliminare questa minaccia a qualunque costo dobbiamo eliminarla Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.